E ora, iniziamo a lavorare sulla galleggiabilità. In posizione prona puntate le pinne verso il basso e ponetevi in condizione di galleggiabilità neutra. Ispirando a fondo tenderete a risalire, mentre espirando tenderete a discendere. Variando esclusivamente il volume polmonare potete quindi effettuare delle oscillazioni. Quando riuscite a raggiungere questo obiettivo potrete persino rimanere immobili nelle due posizioni limite dell'oscillazione, respirando meno profondamente e a polmoni quasi pieni o quasi vuoti.